Adesso iniziamo No, a posto No, a posto Tanto Oggi siamo qua con un fantastico video che ci è venuto in mente Così, un giorno a caso Sappiamo che sul web sta spopolando questo trend di assaggiare questa patatina piccante Che dicono che sia la più piccante del mondo Però chi l'assaggia è consapevole che è la più piccante del mondo Secondo me è tutta una bufala ed è tutta una commercialata che c'è dietro Quindi oggi abbiamo deciso di fare una cosa un po' più diversa Ovvero prendiamo le nostre madri che non sanno assolutamente niente dell'esistenza di questa patatina E diciamo che su YouTube c'è una challenge che sta andando di moda Ovvero, indovina la patatina E a noi servono le nostre madri per fare questa challenge di indovina la patatina Adesso andremo alla Lidl a comprare delle patatine E nel mezzo li metteremo questa Saranno bendate e dovranno indovinare la patatina che staranno mangiando E noi nel ben mezzo della challenge Li metteremo la patatina più piccante del mondo Cosa che ci preoccupa di più è la fine di quello che c'è scritto dietro Che c'è scritto che in caso di difficoltà respiratorie di lunga durata dopo il consumo Si chiede il consulto di un'assistenza medica Mia mamma ha problemi di cuore Il consumo è a tuo rischio Adesso andiamo alla Lidl a prendere le patatine Patatine Ho preso altre due patatine Una per lui e una per me Quindi ragazzi andiamo a fare questo video E oggi finalmente andremo a fare la challenge della patatina La nuova challenge è più spopolata su YouTube Andiamo direttamente a bendarle cosa dici? Dimmi se vedi Sii onesta, sincera Sincera no Vedi sotto No Sei sicura? Perché voi gli occhi chiusi mi hai messo la benda Quindi non è corretta Cosa sto facendo? Non lo so Qua davanti a voi Se toccate piano Senza toccare le patatine Sentite c'è il piatto Si Ok Dentro abbiamo messo le patatine Ok Non puoi toccare le patatine Si Questa Ah vero mancano di qua Due Sono già Sono già tutti sul piatto Se vedi Dici Allora Ci date voi le patatine Esatto Non sono roba strana vero? No 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 Sono patatine Sono patatine Partiamo con la prima patatina Partiamo da questa patonza Ok Aprite la bocca Massimo tre morsi Dai metti in bocca Ah Certo Manda giù Vada giù Vada giù Non va giù come acqua un attimo Io lo so ma non mi ricordo mai Ma quelle bianche Quelle di No No È sempre la stessa Quindi Saporate da bere Sono quelle del bianco dell'uovo Ma come si chiamano? Non sono quelle Non sono bianco dell'uovo Sono quelle che ci assomigliano a chipster Quelle fasule Hanno un disegno Esatto Sono tipo chipster Allora il gusto è quello Però hanno un disegno Sono le patatine Nuvola No L'animale è peloso Cagnolino No Gatto Sta nei boschi Lupo No Ine lupo Eh vabbè È una cosa Cioè è il mostro dei boschi Che non sei un buffo? No Cazzo un mostro Di notte si è Vi rendete? Zero punti Per forza Ok Queste erano le patatine all'orso L'orsetto 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 a patatina Ah no Io ho detto Ah con le fasule dell'idol Esatto Amir vai l'acqua a tua mamma per favore Aspetta Apri la bocca Acqua Piano No Acqua Non mica vodka No perché Non mangio le patatine Orca Alla fine Allora Al mio tre Aprite la bocca Uno Due Tre Fonsis Fonsis Eh? Fonsis Quella tarsa Però queste sono fasule Al formato Subito Subito 100% Sicura 100% Allora Che sono quelle palce Sicura al 100% Si che sono fatta Si sono quelle fasule Perché quelle originali come sono? Più crocante E sono più piccole Non così Più piccante Bravo Avete fatto 5 tutti a testa Quindi dobbiamo tuttare 10 punti Anche il bonus allora abbiamo Eh il bonus si Il bonus è l'acqua Che grande po' Acqua Acqua Sono un po' Si guardi Adesso Adesso Iniziamo Questa Questa Secondo me È difficile Potete masticarla E mandarla No a posto No 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 Pronti? Salute 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 Al mio 3 aprite la bocca 1 2 3 Tutto in bocca Vai Mastica 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 Perché l'hai spettata Mastica No non puoi togliere la penna Mastica Mamma 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 Non c'è acqua Dai Marco No mamma No mamma No mamma No mamma C'è acqua No mamma No mamma Quello No mamma No mamma To questa To questo Schifo Adesso dai qualcosa Per quel piccante eh Mamma To questo Bevi 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 No mamma No mi puzza la lingua Adesso devo fumare Non riesco a mangiare molto Basta Cosa basta? Cazzo mi sta scendendo il buco e tutto Guarda gli occhi Guarda gli occhi Guarda gli occhi Cosa è questo schifo? Questa è la fatattura più piccante del mondo Prendi il telefono Prendi il telefono Si ma puzza Mamma mia che schifo Oh figli No Original A stocke No Prendiол La cazzo l'avete preso questa m***a? La stocke Questa è sull'acqua Qualca è tutto No Adesso perché noi non siamo delle persone normali, ne abbiamo altre due, una per me e una per la mia. Di questa? No, no, non l'ho fatta, ascolta ma fidatevi. Marco guarda, puoi morire eh? Io lo faccio, io lo faccio, prendi la gara. E' giusto il momento che iniziamo a soffrire un po' anche noi, perché siamo dei figli bastardi. Siamo pronti ragazzi, assaggiamo la patatina più piccante del mondo. Guardate com'è, è nera ragazze. Ragazzi siamo pronti, pronti, pronti. Tutta, vai. 3, 2, 1. Tanto. Nooo No, nooo 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 Deve fare un'altra maniera, c'è un'unica maniera per riuscire a andare Si, adesso guarda No 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 Ah Ah Ghiaccio Ah 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 Che vi tirate meglio Petti di ghiaccio Allora Oh Stai malissimo te, ho anche oggi amici, abbiamo stranossi se siete minorenni non provatela sicuro se siete minorenni non provatela ha sboccato Amir la reazione che vedete sui video non è per niente recitata quando subito come la metti in bocca appena la punta senti bruciare già però è un bruciore lieve è un piccante classico poi mangi tutto mastichi tutto dopo 10 secondi esplode ti esplode tutto dalla bocca che prende fuoco e senti proprio bruciare tutto tutto fino allo stomaco senti bruciare io ho cercato di resistere avete visto avevo gli occhi che stavo piangendo avete visto anche le reazioni delle nostre madri che loro sono pure quindi non possono ricitare penso che la reazione più forte l'ho avuta io Amir è stato male ha vomitato è arrivato a vomitare allora presupposto il piccante che ti esplode in bocca passa la botta interna no allora diciamo che poi io essendo celiaco avendo avuto problemi alle pareti interne dello stomaco a un certo momento ho passato il bruciore un pugno qua nello stomaco ecco io quello non l'ho sentito ma forte forte sento bruciare un po' lo stomaco infatti ho vomitato se noi arriviamo a 1000 like portiamo la patatina più piccante del mondo in giro per tutta l'Italia la faccia massaggiare ai passanti la partiremo dalla nostra città Verona fino ad arrivare in tutte le città d'Italia però sta a voi farci arrivare a 1000 like raga quindi condividete il video iscrivetevi al canale e detto questo direi che possiamo tranquillamente vederci nel prossimo video bella raga